Ogni parola può trasformarsi in un pugno o una carezza. Tu puoi scegliere. 7 febbraio, giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Stop! Bullismo e cyberbullismo. Questa è una raccolta dei nostri pensieri espressi tramite gli Aiki. Una tipologia tradizionale di poesia in Giappone. Ogni Aiki ha solo traversi e seguono uno schema di sillabe 5-7-6. Piango da solo, mi hanno bullizzato, solo fu. Bulli cattivi, sono sempre insultare per provocare. Tante offese, sono proprio cattive. Non si muovere bullismo, mi offensivo per nonca a tutti. Scappo dal bullo, l'adulto mi difende. Il bullo fullo offende, adulto aiuta per stare. Cyberbullismo, si infila nel gioco per offrire. Allontanati da chi ti offende, non ti apprezzo. Il bullo vuole attenzione su di sé. Perfine e gioco. Fare bullismo, non ti fa respirare. In tutto il gioco. Questo pianeta è il clino di offese che non serve. I bulli sono come le riunioni che scuotone. Il bullo vuole offendere con i gesti, con le parole. Cyberbullismo, fesa gratuita, no empatia. Il malumore, le frasi negative, le parole. Con questo bullo suona la campanella. Il tuo amico tu lo puoi evitare e sollevare. D'altro padre ti allontanati sempre dall'effusio. Se hai la felicità, basta violare. Ti sente male perché ti puoi insultare. E puoi giù. Fili gli occhi. Chiango appena il posto. E sto da solo. Il cataclisma è il cyberbullismo che c'è. Cyberbullismo è come una spina in un fianco. E chiama perché ti puoi sollevare. Il cataclisma è la mia spina in un Qi. E chiama perché ti puoi insultare. E chiama perché ti puoi immaginare. E chiama perché ti puoi dire. E chiama perché ti puoi nel pasto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.